Benvenuti a MeteoGiulianci.it, dopo domani lunedì 13 febbraio ulteriore miglioramento del tempo sull'Italia perché si allontana verso i Balcani il vortice di bassa pressione che ha insistito per più giorni sulla penisola, ma seguita purtroppo a fare freddo seppure in attenuazione, ma vediamo questa mappa che fa vedere come l'aria siberiana seguiti a ricoprire ancora l'Italia. Che tempo allora farà dopo domani? Molte nuvole quasi ovunque eccetto le regioni alpine, ancora nevicate purtroppo vedete su Abruzzo, Molise, rilievi campani, lucani, altopiano della Sila e nord della Sardegna, piogge lungo le coste campane Calabria e nordeste della Sicilia. Per quanto riguarda le temperature massime queste saranno in lieve rialzo ma ancora su valori prossimi a zero gradi su gran parte del centro nord. Bene termino qui, vi ringrazio per l'ascolto, ancora un buongiorno. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.